In attesa che il presidente del Consiglio Draghi riferisca giovedì prossimo in Parlamento sul suo recente viaggio negli Stati Uniti e illustri la posizione del governo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, le acque nella maggioranza restano agitate. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede uno stop all'invio di ulteriori armi all'Ucraina e un nuovo voto sull'indirizzo di politica estera dell'esecutivo, non previsto però in caso di semplice informativa alle Camere, come farà il Premier. Anche il segretario della Lega Salvini, sulla scia dei grillini, spinge per fermare altre forniture di aiuti militari a Kiev, ma in maniera più sfumata, senza la minaccia di azioni parlamentari. Piano sostegno all'azione del governo invece da parte del PD che domani riunisce la direzione del partito per discutere, dopo le divergenze delle ultime settimane, anche sulle prospettive di alleanza con i 5 Stelle. Intanto oggi il ministro della Difesa Guerini è intervenuto al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica per illustrare il contenuto del terzo decreto interministeriale con la lista secretata dei nuovi armamenti da trasferire all'Ucraina. La lista delle armi è giusto che resti segreta per motivi di sicurezza nazionale e il decreto è in linea con le indicazioni delle Camere, fa sapere il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a quanti chiedono maggiore trasparenza sull'invio degli aiuti militari a Kiev.